Concluso a Porto San Giorgio il ciclo di incontri sui sette vizi capitali, organizzato dal Centro Studi Erasmo da Rotterdam. Dopo l'appuntamento sul tema Avarizia, la rassegna culturale ha messo al centro della riflessione il sentimento dell'ira. L'appuntamento è stato patroginato dall'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Fermo e dall'Ordine degli Avvocati di Fermo, che ha riconosciuto valore formativo alla conferenza. Relatore il noto criminologo e psichiatra Forenze Francesco Bruno, un ospite che non ha bisogno di presentazione, secondo il presidente nazionale del Centro Studi Erasmo da Rotterdam, professor Don Mario Ferracuti. Non è necessario, credo io, presentarlo perché lo conoscono tutti, perché lo vediamo in televisione, soprattutto noi lo ammiriamo per le cose che gli dice che è un uomo che va in profondità in ogni cosa. È un uomo amico dell'Erasmo, è venuto anche un'altra volta, ma è venuto anche altre volte per altri temi e noi ci sentiamo amici e lui si sente amico, credo. Nutrita e di qualità la platea che ha ascoltato con attenzione il criminologo Francesco Bruno, ma l'Erasmo da Rotterdam guarda avanti e con i progetti è già al prossimo ciclo di convegni. Sì, siamo riusciti a chiudere questo incontro nella sala padronica con molta gente e gente qualificata, perché gente che io conosco e gente responsabile che non è venuta qui per qualche diversivo, qualche motivo di noia o qualche altra cosa, è venuta per apprendere, perché si tratta appunto di un uomo, chiamiamolo genio, di un genio che ha da comunicarci qualcosa di importante. Che cosa c'è nel futuro del centro studio Erasmus da Rotterdam? So che lei è stato a Milano recentemente. Sì, anche a Milano, ma sono stato soprattutto a un incontro di scolè dei professori universitari a Brescia, dove ho tentato di reclutare un po' di professori per i prossimi incontri che noi faremo sui dieci comandamenti. Possiamo già anticipare quando inizieranno? C'è già un calendario? No, credo che prendiamo un mesetto di respiro e poi faremo l'inaugurazione, ancora non sappiamo bene con chi, dopodiché iniziamo noi, comandamento per comandamento, pensiamo di portarli a termine. Non sette come quest'anno, quindi? Sono dieci, sono dieci. Professor Francesco Bruno, come definirebbe l'IRA? L'IRA è un'emozione che dovrebbe essere al nostro servizio, invece usata per scopi distruttivi che non solo non hanno a che vedere con il nostro servizio, ma al contrario ci fanno male. Che impatto sta avendo sulla società attuale? Che legame c'è con l'attualità? Purtroppo c'è un legame che continua ad essere stretto, non è stretto come in passato, però continua ad essere stretto e noi continuiamo a non poterci liberare dalle componenti negative dell'IRA. Lei farà anche degli esempi provenienti dalla sua attività di medico-psichiatra e di criminologo? Beh, diciamo che io vedo sia danni prodotti dall'IRA, sia danni non prodotti dall'IRA. Non so quali sono peggiori, probabilmente peggiori sono quelli non prodotti dall'IRA. Come si può rimediare? Se qualcuno fosse particolarmente tendente nel suo comportamento all'IRA, come rimediare? Dobbiamo abituare i nostri figli, attraverso una pedagogia adeguata, a non avere più l'IRA, ma a non distruggere a seguito dell'IRA, quindi a controllare la nostra vita. Un sentimento intenso l'IRA, capace di trasfigurare sia i tratti del viso della persona adirata che il tono della voce, può far perdere l'autocontrollo e quel che è peggio, la ragione. Esempi dell'attenzione che l'uomo dedica all'IRA sono presenti anche nella letteratura, dall'IRA funesta del Pelide Achille nell'Iliade di Omero, al Deira di Seneca, alla Divina Commedia di Dante Alighieri, che nell'ottavo canto dell'Inferno inserisce gli iracondi e accidiosi all'interno del quinto cerchio. Ma l'IRA è anche un tema attuale, con collegamenti nel momento storico che viviamo, secondo Saturnino Di Ruscio, presidente regionale dell'Erasmo. Forse le sette visi capitali è quello più attuale. Un po' la gente è tutta arrabbiata, ha torto ragione, ma comunque è adirata nei confronti di come vanno le cose. Però è un'attualizzazione interessante, quella che abbiamo legato e che legheremo questa sera, grazie al professor Bruno, anche al discorso del femminicidio. Anche qui questi attacchi di IRA che portano alcuni uomini, diciamo, addirittura a arrivare ad uccidere la propria parte. E' qui che si dimostra l'IRA in tutte le sue componenti, quindi la mancanza di autocontrollo, di razionalità, che porta appunto a comparazioni che non hanno niente a che vedere con quella che è la caratteristica dell'essere umano, la razionalità e l'autocontrollo. E quindi ecco, un tema sicuramente interessante che si presta anche ad essere attualizzato e credo ecco che come associazione toccare i sette visi in capitale ha significato toccare l'uomo, le inclinazioni negative dell'uomo per cercare di migliorarci. Se vogliamo migliorare la società lo dobbiamo fare partendo da noi stessi, quindi correggendo quelli che sono i nostri visi per creare insieme una società migliore.